ciao a tutti aiuto non avevo parlato va bene comunque ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video unboxing in cui aprirà questa che è una lol surprise glitter globe che vuol dire glitter globo mi è arrivata per santa lucia da mia zia e niente iniziamo ad aprirla qua c'è una rolle che non mi ricordo neanche più il nome e qui ci dice che posso trovare otto sorprese il messaggio un accessorio un biberon un altro accessorio il vestito le scarpine e la lol che può essere sempre rara ultra rara o normale ma ora iniziamo apriamo questa cerniera vediamo se riusciamo a prenderla dritta non ci credo regola aperta proprio dritta mettiamola via e apriamo il primo strato sembrava che non c'era niente ma in realtà abbiamo trovato un indizio che è questo qua un fiocco di neve in più un vestitino e c'è scritto strutti in winter winter fashion che vuol dire moda invernale ora apriamo la metto qua dai se si vuole ora apriamo la seconda non ci credo sarà pronta questa qua dritta non ci credo li ho aperti tutti e due dritta cavolo che fortuna oggi qua non c'è assolutamente niente vedete non c'è niente no ci sono i glitters ho paura che mi semplice in piastra tutto però proviamo ad aprirla ci provo non so a bisogna togliere questo sticker lo vado a togliere tolto ora andiamo ad aprire ho paura per quello che succederà però proviamo come cavolo si fa ad aprire ecco 3 2 1 ero solo qua che spavento che mi fate prendere per niente c'è guardate però che carino queste grece qui erano così apriamo la carta che è anche stranissima oh quanta roba tutte le tre pezzi sono i sacchettini così nella checklist che non serve a niente questo libetto qua che lo guarderemo dopo il piedistallo e niente dai apriamo no anzi la checklist non la voglio aprire dopo come vi ho detto iniziamo ad aprire il piedistallo vi voglio mettere un po in ansia spostiamo tutta questa roba e prendiamo il nostro taglierino apriamolo ecco aiuto a quando riuscirò ad aprirlo sono riuscita ad aprirlo è così normale un semplicissimo piedistallo ora passiamo alle sorprese che sono tutte queste qua c'è la lonza e quindi iniziamo ad aprire questa mi sa che ce l'ho fatto così carinissima che ho scritto la surprise apriamo che carine queste scarpe guardate tutte glitterate belle mettiamole qua questo che cos'è sarà il vestito apriamo il vestito mi sa che mi sono già fatto un'idea va bene spostiamo questo col piccino e così tutto ci resta abbinato con le scarpe un po di glitter mettiamolo qua questo qua che non so che roba è non ho la minimità cos'è che bello c'è scritto mrs snow quindi ci può dare già un'idea di chi è questo qua che è l'ultimo dopo la lol ho paura il piedistallo ah no non è vero che è l'ultimo ce ne sono altri due questo qua è un altro piedistallo c'è questo qua il piedistallo quello di prima cos'era chi lo sa ora ci sarà il biberon mi sa non ci credo è bellissimo guardate mettiamolo qua e questa qua è la lol ho paura ma guarderemo chi è ora 3 2 1 non ci credo è bellissima togliamo lì questo coso di bocca se si toglie vabbè lo tolgo raga sono riuscito a toglierlo e mi sa che questo qua è un chuba chuba la lol è bellissima guardate i suoi capelli con tutti dentro i glitter è bellissima raga guardiamo chi è dalla checklist spostiamo un po' la roba prendiamo la checklist ecco questo qua e apriamola eccola abbiamo trovato lei del glam club che ci dice che sputa ed è una normale popolare ma sono tutte normali tranne questa questa e basta non ci sono tante altre scelte iniziamo a commentare questo qua che non mi piaceva tanto mi sa che è un maschio del glam club è la nostra e qui la nostra miss da snow che è bellissima qui beach full cutie vabbè anche carina blood bb carina come si chiama non riesco a leggerlo slave baby questa qui carina e fuji 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 hate carina snow le leopard bella prizzi molto bella volevo questa tin cell bella no non mi piace tanto no fin questa qua scusatemi se non riesco a pronunciare proprio bene islodarius boy è un maschio e trawin bb molte molto tutte molto carine però ora andiamo a vestire la nostra hall ah ragazzi mi ero dimenticata di dirvi quale non mi piace tanto quella che non mi piace tanto è questa e questa e anche questo guardate che bella l'ho vestita e anche il suo ciupa ciupa ora l'unica cosa che ci manca da fare è vedere come sputazza vado a riempire con l'acqua questo biberon che bellissimo ok raga l'ho riempito d'acqua ora diamo la lol aiuto bevi ok a quando l'ho bevuto ok raga l'ho dato l'acqua però mi stacchia è troppo poca lo faccio bere di nuovo il biberon e l'erorida ok io l'ho fatta abbastanza bere spostiamo l'acqua spostiamo l'acqua e deriviamoli l'acqua se bevi ora mi sa che ora è abbastanza pieno vogliamo provare a vedere come sputazza 3,2,1 ma non sputa non sputa raga non sputa riproviamo ancora una volta a vedere come sputa sempre se sputa 3,2,1 ma non sputa sputa ok non sputa l'ultima volta se lo fa bene se non lo fa niente ecco 3,2,1 non ci credo l'avete visto ha sputato ha sputato ha sputato che facciamo? ha sputato raga l'ultima volta vedete? sta sputando sta sputando non ci credo raga sta sputando guardate l'avete vista? ha sputato io mi suicido non ci credo ha sputato raga non mi era male mi sputa anche a voi vabbè comunque questo qui era il mio video unboxing grazie a tutti per la visione e ciao